Un avvocato 42enne di Casa Massima nel barese, Cristiano Marinò, è stato aggredito nel pomeriggio di ieri mentre usciva dal proprio studio. Il professionista sarebbe stato picchiato da due persone, indagano i carabinieri. La vicenda è stata prima confermata dall'ordine degli avvocati di Bari, poi raccontata dalla stessa vittima. Mi sono ritrovato davanti due persone che non conoscevo, ha detto Marinò. Uno dei due ha cominciato a minacciarmi, si riferiva ad un caso che avevo seguito, prosegue. Avevo difeso un cliente che riteneva di non dover dare dei soldi a questo soggetto, che invece ha continuato a pretenderli nonostante l'avvertenza stragiudiziale fosse chiusa da due anni. Il presunto aggressore avrebbe preteso la somma persa dal legale. Proprio dalla richiesta del denaro sarebbe scaturita la violenza. Mi ha sferrato un calcio violentissimo, ha riferito Marinò, poi sono scappati entrambi. All'uomo è stata diagnosticata la frattura di due costole, ha annunciato querela ed ha aggiunto, continuerò a svolgere il mio lavoro ma ho sicuramente paura.